realizzando la la nuova cappella della sua maria di gesù santo canale ci trovavamo all'altezza di 11 metri quando il luciornale dove stavamo lavorando era tutto ricoperto di tavole che noi serviva per attraversare da un lato all'accio della stanza in un passaggio di questo tutto ad un tratto si è rotto una di queste tavole e io sono andato giù prima di tutto pensavo che mi stava succedendo qualcosa di brutto poi nello stesso tempo ho chiamato subito addio di darmi una mano d'aiuto nel frattempo continuavo a scendere sempre questione di attimi nel momento in cui io stavo arrivando a toccare terra mi sono messo le mani nel volto ad un tratto mi sono ritrovato a terra ho torto le mani e mi sono rialzato come se niente come se niente fosse successo mi è successo come se qualcuno ha rallentato la mia corsa e dal momento in cui mi è successo questo ho continuato ancora di più a credere in sua maria di gesù perché mi ha dato la possibilità di farmi un'altra vita una famiglia e ora sono contento così perché c'ho una moglie e due bevi che miracoli esistono e 15 maggio la nostra fondatrice santa maria di gesù verrà posta come luce per tutti i cristiani come modello non soltanto per noi suore cappuccine ma per per i tanti laici le famiglie i giovani i bambini gli anziani che a contatto con lei con il suo carisma con la sua spiritualità si innamorano e sono tanti e vogliono chiedere la sua intercessione per poter essere più uniti a cristo perché il mondo ha bisogno di di mediatori tra il cielo e la terra e allora una figura una nuova figura di santa ma saranno anche dieci domenica i santi e vengono posti proprio per la chiesa per il mondo perché ci aiutino a guardare il cielo a invocare la pace ad essere costruttori di speranza importante per la nostra comunità di cinese e con la comunità di cinese intendiamo anche la chiesa diocesana tutta che già sei anni fa ha sperimentato l'importanza della beatificazione adesso c'è un respiro proprio universale di questo momento importante perché siamo chiamati a vivere quel modo che maniera unica assolutamente originale come sanno fare santi però ci permette di poter dire che il vangelo non è un'utopia non è un ideale non è stato scritto e trasmesso per soltanto affascinare gli uomini e le donne di un certo periodo ma per essere incarnato per diventare vita vissuta e così come carolina santo canale ha fatto qui a cinese nel 2011 ci siamo sposati e non abbiamo nemmeno pensato mai di chiedere questa grazia perché per noi era ovvio scontato che non possiamo avere bambini anche qua i diversi medici anche in palermo mi hanno detto sempre di continuare la mia terapia ormonale sostituiva che facevo per la menopausa precoce e poi un giorno una nostra amica ci ha detto della beata santo canale dice ma perché non ci andate e noi ci siamo avvicinati al santuario e quel giorno c'era là nella chiesetta della beata suor salvina e lei ci ha portato qua e quindi qua poi abbiamo continuato a casa pregare per questa intenzione e con con una pace affidamento al signore perché tanto sapendo che stiamo partendo da zero non è possibile noi ci siamo venuti qua ad aprile a dicembre giorno 6 dicembre ho scoperto di aspettare il mio primo figlio quindi la grazia è stata ci è stata concessa veramente velocemente dopo sei anni del nostro matrimonio meno male tutto è andato bene dopo dopo che samuele il nostro primo figlio aveva sei mesi è arrivata la notizia che stiamo aspettando il secondo bambino ci è stata concessa per intercessione della beata beata maria di gesù santo canale la grazia anche della terza gravidanza credere nell'impossibile perché comunque osare a pregare nelle situazioni dove non non c'è speranza questo dobbiamo fare perché il signore è stato troppo buono con noi e noi ci rendiamo conto che la sua generosità è per noi abbondante grazie a tutti grazie a tutti Grazie.